Scegli anche tu Ciao a tutti vai da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di AutoPiù, concessionaria Nissan. Una puntata che sarà dedicata quasi esclusivamente a vetture d'occasione, vetture a chilometri zero, ma qualche parola anche sul Nissan Nuova e sulle promozioni le faremo in compagnia di Emanuele. Ciao! Buonasera a tutti, ciao Rosi e bentornati all'AutoPiù. Andiamo adesso a scoprire le promozioni di casa Nissan. Iniziamo da Nissan Micra, con l'eco bonus sarà tuo a partire da 9.950 euro con climatizzatore, radio e frenata assistita. Continuiamo con le promozioni di casa Nissan, scopriamo Qashqai, se cambi la tua vecchia auto fino a 4.000 euro di Intelligent Bonus. Ricordo a tutti i nostri telespettatori di visitare il nostro sito autopiù milano.it e vi invito a venirci a trovare presso le nostre sedi. E adesso passiamo alle nostre occasioni che abbiamo selezionato per voi. Audi A4 Avant, immatricolata giugno 2014, 97.000 km percorsi, è un allestimento business, vettura dotata di sistema di navigazione, fare all'oxenon, sensore di parcheggio posteriore, proposta a 19.500 euro. Abbiamo disponibilità di Volkswagen Golf a chilometro zero, andiamo a presentare un esempio, Golf allestimento High Line 1.6 TDI, immatricolata ottobre 2017, a partire da 24.200 euro. Abbiamo disponibilità di diverse Volkswagen Up a chilometro zero, con prezzi a partire da 12.300 euro, con diversi allestimenti e motorizzazioni. Volkswagen Golf, immatricolata agosto 2017, versione High Line, diesel, vettura dotata di sistema di navigazione, sensore di parcheggio e Bluetooth, proposta a 24.200 euro. Passiamo in casa Ford, con un S-Max, vettura immatricolata anno 2012, autocarro, con possibilità di trasformazione in autovettura, allestimento titanium, cambio automatico, sistema di navigazione, sensore di parcheggio, proposta a 10.900 euro. Passiamo a un veicolo commerciale di casa Nissan, è un Primastar, immatricolato luglio 2007, con motore nuovo da rodare, 2005 turbodiesel, proposto a 9.400 euro. Vi ricordo che questo mezzo è IVA esposta e tra gli accessori troviamo i vetri elettrici, il climatizzatore, servo sterzo e radio CD. Abbiamo disponibilità di diversi Nissan Cubstar usati, come ad esempio Nissan Cubstar anno 2010, 122.000 km, mezzo commerciale dotato di vetri elettrici, radio e servo sterzo, proposto a 14.500 euro. E vi ricordo che sono tutti dotati di IVA esposta. Passiamo in casa Fiat, con un appunto, 5 porte, 1.4 benzina start and stop, immatricolata anno 2013, vettura dotata a climatizzatore, radio, vetri elettrici, proposta a 7.300 euro. Un saluto a tutti, sono Matteo dell'Auto Più Milano, volevo parlarvi di queste due vetture che abbiamo in salone, che sono delle micro aziendali del 2017 con 17.000 km al prezzo di 8.500 euro, accessoriate già con climatizzatore, la radio, l'USB, il Bluetooth, il cruise control, il cerchio in lega, il fendinebbia, sono quasi un full option, mancherebbe solo il navigatore. Un'altra vettura che volevo presentare, che abbiamo in concessionaria, questa bella Cascai, che è un 1.5 turbo diesel del 2009, viene proposta a 7.700 euro, accessoriata con cerchi in lega, fendinebbia, climatizzatore bizzono, le luci automatiche, il terzo automatico, la radio già con il Bluetooth, con il vivo a voce, è una macchina molto interessante. Un'altra vettura meravigliosa che abbiamo in concessionario è questa Mercedes classe B del 2008, nera con l'interno in pelle beige, che ha anche i sedigli elettrici, il navigatore, il cambio automatico, i sensori del parcheggio avanti e indietro, è una vettura completa di tutto, è un 2008 e viene 7.500 euro. Allora, un'altra vettura presente in concessionario, questo splendido Pathfinder, vettura ormai introvabile nel mercato italiano, è dell'anno 2014, ha su 43.000 km, accessoriata con cambio automatico, 7 posti, il climatizzatore bizzono, è un 4x4, ha le ridotte, ha l'assistenza alla discesa in caso di ghiaccio e neve, è una macchina veramente fantastica e viene proposta a un costo di 25.200 euro. Volevo presentarvi questa vettura, è una Nissan Qashqai, è un 1.5 turbo diesel, è una vettura del 2010, con su 107.000 km, vettura accessoriata con cerchi in lega, il climatizzatore bizzono, la radio, il bluetooth, il cruise control, i sensori del parcheggio posteriori e via dicendo, viene proposta a un costo di 11.500 euro. Abbiamo qui questa bellissima Juke, che è un 1.5 turbo diesel, versione a 100 del 2017, con 29.000 km, accessoriata con cerchi in lega, il fin di nebbia, la radio, l'USB, il bluetooth, viene proposta a un costo di 15.500 euro, è veramente un ottimo affare. Sono a parlarvi di questa vettura introvabile, perché trattasi di un RAV4 turbo diesel, 140 cavalli, del 2016, con 10.000 km, unico proprietario, è un full option, perché ha interno in pelle, sedili elettrici, radio, retrocamera, bluetooth, cruise control, full option, viene proposto a un prezzo di 23.500 euro. Un'altra occasione che abbiamo in salone è questa splendida Clio 1.5 turbo diesel del 2014, con 90.000 km, accessoriata con navigatore, retrocamera, bluetooth, la chiavetta USB, tutte le cose di ultima generazione, già con il fare a LED, viene proposta a un prezzo di 9.500 euro. Abbiamo anche questa fantastica BMW, che è un 320 del 2014, con 79.000 km, accessoriata con cambio automatico, navigatore, fare a LED, la versione Luxury, veramente una vettura bellissima, e viene proposta a un prezzo di 21.000 euro. Volevo parlarvi di questo bellissimo jumper, Citroen jumper, 9 posti, che è una vettura accessoriata con su tutto, con climatizzatore, cruise control, vettura veramente molto rara, perché con 9 posti permette diverse tipologie di lavoro, ha 90.000 km e viene proposta a un prezzo di 15.500 euro. Passiamo in casa Audi, con una bellissima Q3, dell'anno 2012, con 86.000 km, vettura con un'ottima dotazione, come sistema di navigazione, sensore di parcheggio, fari Big Xenon, cerchi da 18 diamantati, proposta a 22.900 euro. Abbiamo in casa una bellissima Jaguar, modello XF, dell'anno 2009, con l'allestimento portfolio, 132.000 km percorsi, proposta a 16.500 euro. La vettura è dotata di tutti gli accessori disponibili al listino Jaguar, come interno in pelle, fari Big Xenon, sistema di navigazione, retrocamera e clima automatico B-Zona. Torniamo in casa Nissan, con una Pulsar dell'anno 2015, con motorizzazione diesel 1.5 e 110 cavalli, allestimento a 100, proposta a 11.900 euro. La vettura è dotata anche di sistema di navigazione. Passiamo in casa Fiat, con una bellissima 500L, allestimento Living, 1.3 multijet, vettura dell'anno 2015, 53.000 km percorsi, proposta a 14.900 euro. Ricordo ai nostri telespettatori che la vettura è dotata di 7 posti, interni stoffa misto pelle, cerchi in lega, bluetooth e climatizzatore automatico B-Zona. Passiamo in casa Mercedes, con una B180 dell'anno 2011, unico proprietario, vettura che ha percorso 138.000 km, proposta a 9.500 euro. Abbiamo una 500 Abarth dell'anno 2009, vettura con kit SS, 160 cavalli di emozioni, proposta a 11.900 euro. La vettura ha percorso 80.000 km. Andiamo a presentare una Volvo IC60, è una vettura dell'anno 2015, con 83.000 km percorsi, cambio automatico, sistema di navigazione, proposta a 25.500 euro. Abbiamo un'occasione per neopatentati, è una Toyota Ego del 2016, con 25.000 km, proposta a 8.800 euro. Andiamo a presentare un'occasione di casa Jeep, è una Cherokee dell'anno 2015, con 70.000 km, trazione integrale, proposta a 25.300 euro. Torniamo in casa Audi, con una bellissima Q3, vettura immatricolata luglio 2013, 80.000 km percorsi, 2.000 TDA e 140 cavalli, proposta a 20.500 euro. Abbiamo una dotazione con sistema di navigazione, cerchi in lega da 17 pollici, fare allo Xenon e sensore di parcheggio posteriore. Passiamo a una vettura per la famiglia, di casa Fiat, è una Doblò, immatricolata nel gennaio 2015, 90.000 km percorsi, diesel, a 11.000 euro. Continuiamo con un'occasione Volkswagen, è una Tiguan, immatricolata a settembre 2013, 65.000 km percorsi, proposta a 17.500 euro. Passiamo a una piccola sportiva, in previsione dell'estate, è una Mini Cooper S Cabrio, pacchetto Cili, 184 cavalli, dotata di un ricco allestimento, come i fare allo Xenon, i cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, proposta a 11.500 euro. Volevo aggiungere, per i nostri telespettatori che ci seguono, che abbiamo disponibilità del prodotto Volkswagen a km 0, come Polo, Golf e Volkswagen Up. Emanuele, non abbiamo più tempo, per cui è tutto dall'Auto Più, grazie e grazie a tutti voi. Ciao!